Appartengono allo Stadio Olimpico alcune strutture sotterranee, non visibili agli occhi indiscretti dei visitatori. Sotto il prato di fronte a voi si trova un posto di pulizia. È stato costruito dal nulla per i mondiali di calcio del 2006, per i quali fu anche sviluppato un rigoroso piano di sicurezza. Da allora lo stadio possiede una piccola prigione con cinque celle singole e due celle di gruppo, come anche un ufficio della procura. La videosorveglianza dello Stadio Olimpico permette alla pulizia un punto di vista dettagliato su quasi il 98% delle aree esterne per gli spettatori. Qui la parola sicurezza è scritta in caratteri cubitali. La stazione di pulizia è collegata attraverso il Marsh Tunnel alla rete stradale, un passaggio che risale fin dalla precedente struttura dello stadio tedesco del 1913. Il tunnel era una volta il principale passaggio per il pubblico e gli atleti, poiché doveva attraversare da sotto la pista per le corse dei cavalli. Quando lo stadio tedesco tra il 1933-34 fu raso al suolo, l'architetto Werner Marsh integrò queste componenti allungandole di qualche metro al nuovo stadio. Qui realizzò nell'area sotterranea dell'anello superiore una via di transito, che si snodava intorno a metà stadio. Così, nel 1936, gli ospiti di Stato poterono essere portati con autista e limousine direttamente nello stadio. Ciò era insolitamente moderno, poiché il traffico allora non aveva il ruolo che gli diamo oggi. Dal 2004 al Marsh Tunnel si aggiunge il nuovo Garage Sud, che offre posto a 470 auto degli ospiti VIP. Sul lato nord un altro vi si aggiunge con 170 posteggi. Qualche indicazione visiva di queste strutture sotterranee vi è fornita dagli sfiatatui nei prati adiacenti allo stadio. Con lo stesso design sono fatti i chioschetti della gastronomia. Durante gli eventi vengono ribaltati i ripiani e si trasformano in punti ristoro per gli ospiti. In un giorno di tutto esaurito vengono venduti mediamente 70.000 bicchieri di birra e altre bevande, così come vengono mangiate 20.000 porzioni tra Würstel, polpette e patatine fritte.